I candidati Renato Accorinti e Felice Calabro chiudono oggi le loro campagne elettorali. Domani sarà la giornata della riflessione del silenzio che precede il voto. Un ballottaggio scattato per poco più di 50 voti, mancati al candidato di centro-sinistra per chiudere la partita, ma che ha aperto sulla sfida due scenari nuovi e tutti da definire. Messina a un bivio, da una parte il pacifista Noponte, delle lotte non violente, che dopo tante manifestazioni di protesta per il bene comune ha deciso di tentare la strada della politica e delle istituzioni. Dall'altra, un uomo di partito già con buona esperienza nonostante l'anagrafe, per il PD un ricambio generazionale con garanzia di qualità. I messinesi domenica e lunedì sceglieranno chi dovrà occuparsi di ridare dignità a Messina, perché anche se la campagna elettorale ha fatto prevalere l'ottimismo, la realtà rimane quella di un comune vicino al dissesto e con servizi al minimo offerti ai cittadini. Sono trascorse poche settimane da quando il commissario del comune Luigi Croce ha incontrato i candidati a sindaco a pochi giorni dal primo turno elettorale per dire loro che i debiti ammontano a 500 milioni di euro ed anche se la cifra è stata oggetto di contestazioni rettifiche, rimane il fatto che il disastro economico di Palazzo Zanca è una realtà. Per entrambi i candidati il futuro di Messina però non è segnato. Lunedì sera la città dello Stretto avrà un nuovo sindaco, dovrà subito dialogare con il governo e la Corte dei Conti, perché la lettera di Croce, che chiedeva tempo al fine di congelare le procedure di dissesto, sarà il punto di partenza per il prossimo primo cittadino dal quale si aspettano soluzioni.